Sono Maria, docente di chimica del metodo Cordua e oggi insieme commenteremo i 12 quesiti di chimica del test in medicina che si è sostenuto oggi, 5 settembre 2017. Prima di iniziare a commentare i quesiti possiamo sicuramente dire che non ci sono state sorpresi, infatti i 12 quesiti non risultano essere particolarmente complessi e comunque gli argomenti sul quale avertono questi quesiti erano più o meno quelli che ci si aspettava. Rispetto all'anno scorso magari il livello di difficoltà è leggermente inferiore, infatti nel 2016 magari c'erano stati 2-3 quesiti che potevano risultare più complessi, mentre la mia opinione è che quest'anno i quesiti erano piuttosto abbordabili. Direi quindi di passare al commento partendo dal quesito numero 41. Il 41 tratta di proprietà fisiche, infatti in particolar modo la 41 afferma che è un composto chimico, una temperatura di ebollizione di 68 gradi centigradi a pressione atmosferica. Si può affermare con assoluta certezza, e questo era un punto chiave, ovvero il fatto di trovare tra le risposte quello che assolutamente si poteva verificare, in che condizioni? In condizioni standard, ovvero condizioni standard, abbiamo 0 gradi centigradi un'atmosfera. Affermando che la temperatura di ebollizione della sostanza è a 68 gradi centigradi, possiamo dire che a quella temperatura si avrà un passaggio di stato, ovvero si avrà un passaggio di stato tra lo stato di liquido e lo stato di aeree forme, quindi vapore e oltre la temperatura critica parleremo di gas. Infatti la temperatura di ebollizione corrisponde a quella temperatura alla quale avremo l'uguaglianza tra pressione atmosferica e pressione di vapore. Infatti possiamo dire che a questa temperatura tutta la massa del liquido verrà coinvolta nel passaggio di stato, diventando quindi aeree forme. Tra le alternative proposte, quella che sicuramente è un'assoluta certezza è la risposta A. Infatti un composto chimico che ha una temperatura di ebollizione di 68 gradi centigradi, sicuramente a 0 gradi centigradi non potrà mai essere un gas, in quanto io per avere un gas dovrò necessariamente raggiungere i 68 gradi centigradi. Quindi sicuramente possiamo escludere l'alternativa B, in quanto A e B si escludono a vicenda, e per quanto riguarda le successive tre alternative non possiamo definirlo con certezza, se a 0 gradi centigradi avremo una sostanza solida oppure liquida. Quindi sicuramente la risposta corretta è la A. Per quanto riguarda invece la 42 abbiamo un quesito molto semplice sul calcolo di concentrazioni, infatti ci chiede qual è la concentrazione di una soluzione costituita da 5 moli di solito, disciolte in 10 litri di soluzione. Possiamo dire che il rapporto tra 5 e 10 fa 0,5 moli sul litro non è altro che la molarità, infatti non devo assolutamente andare in confusione tra la C e la E, in quanto la risposta corretta è la E, infatti avremo 0,5 molare. Ma non possiamo invece definire l'alternativa C corretta in quanto la M piccola indica la molalità e la molalità non è altro che il numero di moli del soluto fratto non i litri della soluzione ma i kg di solvente. Quindi è un'importante differenza che devo tenere in considerazione in quanto il quesito mi pone entrambe le alternative. Quindi definisco che la risposta corretta è la E in quanto mi definisce molare, ovvero moli su litro di soluzione. L'alternativa 43 mi identifica due atomi che hanno numero atomico pari a sé e numero di massa rispettivamente 12 e 14. Si può affermare che per definizione noi sappiamo che atomi che hanno stesso numero atomico, quindi uguale numero atomico ma diverso numero di massa, vengono definiti come isotopi, ovvero isotopi di nello stesso elemento. Infatti l'alternativa A mi definisce i due elementi appartengono a gruppi diversi della tavola periodica. Non è possibile in quanto noi sappiamo benissimo che nella tavola periodica gli elementi sono ordinati secondo un numero atomico crescente, quindi se il numero atomico resta lo stesso, i due elementi saranno gli stessi e quindi occuperanno lo stesso posto nella tavola periodica. L'alternativa corretta invece è assolutamente la B, ovvero si tratta di due isotopi di nello stesso elemento proprio perché la definizione di isotopo è stesso numero atomico e diverso numero di massa, infatti in particolar modo possiamo presupporre che questo elemento di cui si sta parlando sia proprio il carbonio, quindi isotopo 12 e 14 del carbonio. L'alternativa C non è corretta in quanto afferma che i due elementi hanno lo stesso numero di neutroni, ma se il numero atomico è lo stesso e quindi il numero di protone è lo stesso, quello che mi farà cambiare il numero di massa può essere solo ed esclusivamente il numero di neutroni, quindi anche questa alternativa è scorretta. Per quanto riguarda l'opzione D, i due elementi appartengono a periodi diversi, vale la stessa motivazione dell'opzione A e la E mi dice due elementi sono carbonio e azoto, non è possibile perché avendo lo stesso numero atomico dovranno essere necessariamente lo stesso elemento. Nella risposta domanda 44 invece mi dice qual elemento presenta configurazione elettronica 1s2 e 2s1. Per rispondere a questa domanda era possibile scegliere due strade, ovvero o si conoscono a memoria i numeri atomici dei diversi elementi e quindi io so che il litio ha numero atomico pari a 3 e quindi deduco che la configurazione elettronica 1s2 e 2s1, quindi due elettroni più un elettrone fa 3, quindi deve essere il litio, oppure posso risalire alla posizione dell'elemento nella tavola periodica a partire dalla configurazione elettronica esterna. Infatti, se la configurazione elettronica completa è 1s2, 2s1, io posso ricavare la posizione dell'elemento nella tavola, in quanto la configurazione elettronica esterna, ovvero 2s2, mi dice proprio le coordinate di questo elemento nella tavola. Infatti, il livello energetico più esterno, quindi il 2, mi dice il periodo, quindi sono nel periodo 2, mentre gli elettroni che sono presenti nel livello più esterno, ovvero uno solo, mi definiscono il gruppo, quindi dirò gruppo 1. Detto questo, quindi conoscendo la tavola periodica, posso dire che nel secondo periodo, primo gruppo, troverò il litio. Per quanto riguarda invece il quesito 45, che forse è tra i 12 quesiti quello che magari può aver causato un po' di confusione, afferma che la massa di un numero di Avogadro di atomi di carbonio è? Allora, dire un numero di Avogadro di atomi non è altro che dire una mole, perché io so che una mole di qualsiasi sostanza contiene 6,022 per 10 alla ventitresima particelle di quella sostanza. Quindi se mi sta chiedendo la massa di un numero di Avogadro di atomi di carbonio, mi sta chiedendo la massa, ovvero il peso di una mole di carbonio. Il peso di una mole di carbonio non è altro che 12,01 grammi. 12,01 grammi su mole magari era l'alternativa perché potrebbe creare più confusione, quella sarebbe stata corretta se mi avesse chiesto la massa molare, mentre mi sta chiedendo solo la massa, quindi dirò solo 12 grammi, non 12 grammi per mole. Per quanto riguarda il quesito 46, avremo una reazione da bilanciare piuttosto semplice e la reazione di decomposizione del clorato di potassio, avremo quindi KClO3 che mi fornisce KCl più O2. Parto col bilanciare l'ossigeno, quindi vedo che nei reagenti ho 3, nei prodotti ne ho solo 2, quindi moltiplico per 2 il clorato di potassio e per 3 l'ossigeno molecolare. A questo punto devo anche bilanciare potassio e cloro mettendo un 2 davanti al cloro di potassio, quindi i coefficienti sono 2, 2, 3, ovvero alternativa E. Nella 47 invece abbiamo un quesito su acidi e basi, abbiamo infatti che il 47 afferma l'ammonia che è in grado di accettare ioni H+, formando NH4+, ovvero l'ione ammonio. Possiamo definire che questa non è altro che una base secondo Broenstellori, infatti sono 3 le principali teorie acido base, quella di Arrhenius, quella di Broenstellori e quella di Lewis. Quella di Arrhenius afferma che una base, una sostanza, una specie chimica è in grado di liberare ossidrilli, ovvero ioni OH-. Mentre secondo Broenstellori, una base, quella specie chimica, è in grado di accettare un protone e quindi è proprio il nostro caso, per cui l'alternativa corretta sarà la D. Mentre per Lewis, una base secondo Lewis non è altro che una specie chimica in grado di donare un doppietto elettronico libero, mentre l'acido di Lewis è in grado di accettarlo. Diciamo che la base di Schiff non è argomento, non è in programma, è una base organica, è una mina, ovvero data da una reazione tra una mina primaria e un composto carbonidico, ma non è comunque programma di test, quindi era un bel distrattore. Per quanto riguarda invece la domanda 48, abbiamo una domanda di nomenclatura, infatti i non metalli reagiscono nell'ossigeno per dare anidridi. Se avesse avuto un metallo a reagire con l'ossigeno, allora avrei definito i composti così formati degli ossidi basici, per quanto riguarda invece gli eteri, avremo che sono dati da una reazione di condensazione tra due alcoli. Gli alcani sono idrocarburi in cui tutti gli atomi di carbonio sono ibridati seppi 3 e infine gli idracidi sono quei composti acidi dell'idrogeno insieme agli alogeni, lo zolfo e lo ione cianuro tipo l'acido cloridrico. Per quanto riguarda invece la domanda 49, abbiamo una domanda di organica che ci chiede quale tra i seguenti composti è un'ammide. L'ammide è un composto dato alla reazione tra un acido carbossilico e un'ammina, quindi il suo gruppo funzionale sarà caratterizzato dalla presenza di un carbonio carbonilico che lega un atomo di azoto facente parte di un gruppo amminico. Quindi sicuramente possiamo affermare che l'alternativa corretta è l'opzione C. Infatti la A non è altro che un essere. Per quanto riguarda invece l'alternativa B abbiamo il nitrometano, nella D abbiamo un'ammina secondaria e nella E una ammina primaria. Nella domanda 50 invece abbiamo due composti, ovvero l'1-butanolo e il 2-butanolo. Possiamo affermare che l'1-butanolo e il 2-butanolo, senza ombra di dubbio, sono isomeri di strutture, in particolar modo sono isomeri di posizione. Infatti avremo che l'ossidrile caratteristico degli alcoli, infatti l'olo mi suggerisce che stiamo parlando di alcoli, nel primo composto è situato sul carbonio 1, nel secondo composto invece risulta essere spostato sul carbonio 2. Quindi questi possono essere definiti come isomeri di posizione e quindi isomeri di struttura. Per quanto riguarda gli isomeri conformazionali abbiamo ad esempio l'isomeria a sedia barca, quindi avremo rotazione su un legame singolo. La diasseria isomeria invece è l'isomeria cistrans, nota meglio come cistrans, sono comunque quei composti che sono caratterizzati dall'elemento stereogenico doppio legame o dall'anello chiuso. Gli enantiomeri sono coppie di isomeri che risultano essere uno l'immagine speculare dell'altra non sovrapponibile e sono caratterizzati dalla presenza di un carbonio tirale, ovvero un carbonio ebrizzato sp3 che lega tutte cose diverse tra di loro. Infine abbiamo gli isomeri configurazionali che risultano essere caratterizzati da enantiomerie di asterisomeria, quindi possiamo dire che i configurazionali comprendono un po' sia l'opzione C che l'opzione B. Per quanto riguarda invece la domanda 51 abbiamo un ossido riduzione che però non è da bilanciare ma ci chiede semplicemente di individuare quali sono gli elementi che si ossidano e quelli che si riducono. Vediamo che l'azoto ha nell'acido nitrico numero di ossidazione più 5 e passa nel monossido d'azoto a più 2, quindi sicuramente passando da più 5 a più 2 noi avremo una riduzione del numero di ossidazione e quindi possiamo dire che l'azoto si riduce. D'altra parte invece avremo lo zolfo che nell'acido solfidrico avrà numero di ossidazione meno 2 mentre nello zolfo elementare ha numero di ossidazione 0, quindi avremo che passando da meno 2 a 0 il numero di ossidazione aumenta e quindi possiamo affermare che lo zolfo si ossida, quindi l'opzione corretta è la B. Infine nella domanda 52 dobbiamo individuare quale tra le seguenti affermazioni sui legami covalenti è vera. Innanzitutto la definizione di legame covalente è quella di condivisione di una coppia di elettroni tra due atomi, questi possono essere uguali o diversi e tra le alternative che ci propone possiamo sicuramente affermare che l'opzione è vera è la D in quanto possono essere sia singoli che doppi o tripli, per esempio in O2 avremo un legame doppio, in N2 avremo un legame triplo, in H2 avremo un legame singolo. Le altre possono formarsi solo tra i isotopi uguali, non ha assolutamente senso. La B coinvolgono i neutroni? No, assolutamente no, in quanto il legame covalente o comunque i legami in generale vedono il convergimento degli elettroni e non dei neutroni, possono formarsi tra atomi diversi, possono formarsi da atomi uguali, solo tra atomi uguali, questo solo mi impone dei limiti e quindi io non posso dire che queste due alternative sono corrette. L'unica possibile e corretta è l'opzione B. Ragazzi spero di essere stata abbastanza chiara, di aver tolto eventuali dubbi e vi saluto e in bocca al lupo per il vostro risultato. Ciao!